Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia di EvoSmart.it Quest'oggi Iliad ha fatto veramente un'offerta bomba e onestamente sto pensando di ripassare ad Iliad da Vodafone visto comunque le ultime rimodulazioni di tutti i piani, quindi le passa a Vodafone eccetera Iliad oggi la tocca veramente piano Ebbene sia un'offerta davvero molto molto interessante stiamo parlando di un'offerta dedicata ad altri 500.000 utenti, quindi neanche pochi dopo l'aver raggiunto i 2 milioni di utenti attivi per questo operatore direi assolutamente non una cifra da poco ma ormai lo sappiamo Iliad sta migliorando, sta migliorando nel tempo me l'avete detto voi stessi all'interno dei commenti, all'interno dei nostri gruppi Telegram ecco perché io sto sempre molto attento a quello che ci dite, a quello che ci esponete proprio nei nostri gruppi e di conseguenza come vi ho detto prima sto pensando veramente a passare a questa nuova offerta stiamo parlando di minuti illimitati, SMS illimitati, 4G, 4G plus come velocità e addirittura 50 GB di internet ed anche minuti limitati, SMS illimitati e 4 GB di internet dedicati quando andiamo all'estero quindi quando andiamo ad usufruire del roaming internazionale ovviamente non sparisce anche l'offerta da 6,99€ però con 1€ in più possiamo portarci a casa 50 GB di internet contro 40 quindi è ovvio che per 1€ 10 GB non fanno mai male ovviamente come dice Iliad ragazzi l'offerta è per sempre e senza vincoli allora qua sotto nei link in descrizione mi inserirò il nostro articolo completo così vi potete registrare sul sito Iliad, potete fare la portabilità, potete fare la vostra SIM potete fare insomma l'offerta che vi ho appena detto nel video inoltre sempre qua sotto troverete tutti i link ai nostri canali Telegram così potete chattare con noi e possiamo quindi interagire insieme per oggi è tutto lo staff, vi saluta, vi ringrazia e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video vi ringrazia e ci sentiamo